Lunedì prossimo partirà un cantiere molto atteso a Fregene. Al villaggio dei pescatori saranno realizzati circa 800 metri di pista ciclabile, un'opera che migliorerà sensibilmente la vivibilità di quest'area, ha commentato l'assessore Angelo Caroccia. Il comitato cittadino locale però si mostra in disaccordo con l'inizio dei lavori. Si spendono soldi pubblici per creare cose inutili, si legge nella nota. Sarebbe meglio ad esempio mettere in sicurezza via Castellammare facendo attraversamenti pedonali rialzati e riparare la recinzione della pineta monumentale. Fra poco riparte la stagione balneare, conclude il comitato, torneranno i vacanzieri e troveranno gli stessi problemi insoluti. Però avremo isole pedonali a macchia di leopardo con buona pace dei pochi commercianti rimasti. Pronta la risposta del consigliere comunale Giuseppe Pavinato. A Fregene stiamo svolgendo un grande lavoro che vogliamo proseguire. Esistono 5 chilometri di lungomare completamente illuminati. Abbiamo aperto la Casa della Cultura in un villino sequestrato alla criminalità e la lecceta è stata trasformata da discarica in un parco naturale. Infine il comune di Fiumicino ha annunciato per la prossima settimana anche l'inizio dei lavori in via della Torre Clementina. In programma opera per la raccolta delle acque piovane e il massetto del marciapiede.